Allora, noi siamo ormai al solito appuntamento con Baina di Cinema e Pendolarismo e questa volta parliamo di The Neon Demon, direi, e ti lascio sempre la parola e poi mi aggiungo io in coda. Ok, bene, mi lascio la parola, devo dire che The Neon Demon l'ho visto poco dopo la sua uscita e si tratta di un film, di un regista che io adoro e anche se ha fatto dei film in realtà molto diversi tra loro, ha sempre delle cose che... che lo rendono perfettamente riconoscibile, uno stile decisamente unico e alcune caratteristiche di fondo dei suoi film che io ritrovo sempre. Nel caso di The Neon Demon in particolare, quello che colpisce immediatamente è sicuramente l'estetica del film che secondo me è pura violenza estetica. Ha dei colori fortissimi e come molto spesso accade nei film di questo regista, tutto è lasciato a delle immagini molto impressionanti, per così dire. Non solo quando appunto si tratta dei momenti più angoscianti del film, perché questa è una pellicola, come dire, strisciante, lenta, sensuale in modo morboso e ci sono anche alcune scene che lo sottolineano particolarmente. Questo scendere negli abissi del proibito e del malato. Ci sono delle scene davvero molto estreme da questo punto di vista, anche se non lo definirei un horror in senso stretto. Mi ricordo in particolare un commento che avevo letto su questo film. Il film di una ragazza molto bella, probabilmente non è la più bella però, su questo punto tornerò in seguito. Una ragazza che non è della città, una ragazza insomma potremmo dire più semplice di altre, che però essendo molto molto bella, intraprende questa carriera nel mondo della moda, dove trova una serie di ragazze che sono terribilmente invidiose del suo aspetto, della sua bellezza e trova un mondo davvero sconfortante, fatto di odio. C'è una competizione davvero terribile e poi c'è questa lenta discesa verso l'abisso, con alcune scene, queste sì, davvero orrorifiche, impressionanti. Tra l'altro ci sarà anche una scena abbastanza estrema, perché ci sono poi delle atmosfere anche abbastanza sensuali, ripeto, sensuali però sempre con un forte senso di morbosità. Appunto è una lenta discesa verso l'orrore dell'animo umano e con questo focus sull'apparenza, su ciò che appunto sembra, su ciò che appare. Ci sono queste scene davanti allo specchio, le scene delle selezioni da parte degli stilisti e volevo tornare appunto un attimo sul commento che avevo letto che mi aveva colpito molto. Qualcuno dei tanti in realtà che non hanno capito il senso di questo film, perché non essendo, come dire, un film con una trama ben specifica, nel senso non è che succede chissà che cosa in questo film. Sì, alcune cose accadono, ma non è un film d'azione, è un film di atmosfere e di suggestioni. Dobbiamo essere noi a cogliere tutti i significati, ci sono immagini davvero molto dense di significato. Comunque mi ricordo che uno di questi commenti negativi che mi aveva particolarmente colpito recitava, beh, ma lei non è mica così bella. Il punto non è che lei possa essere più o meno bella di altre. Certo, l'attrice è sicuramente molto bella, probabilmente ci saranno delle attrici anche più belle, più sensuali, ma non è questo il punto. Lei è un simbolo in questo film, è un simbolo ben preciso. Lei incarna la bellezza, l'apparenza e incarna la nemica da sconfiggere, incarna il ruolo da raggiungere e incarna probabilmente anche molte altre cose che tu mi aiuterai a ricordare. Perché, ripeto, io ho dei ricordi piuttosto forti di alcune scene in particolare che però non voglio spoilerare, si tratta delle scene poi veramente più forti dal punto di vista emotivo, quelle forse più orrorifiche, però non voglio spoilerare troppo il finale. E vorrei che tu mi aiutassi a porre il focus su altri elementi che posso aver tralasciato. Sì, sì, sì. Allora, diciamo che come sempre fai un ottimo quadro e io vorrei partire, diciamo, l'analisi di questo film, tra l'altro di un regista che anche a me piace tantissimo e che che spesse volte è un regista che viene preso male. Io ho avuto modo di vedere da poco una serie che ha fatto su Prime Video, To Old, Today, Young, che è proprio Refn potenziato perché si parla quasi di otto, nove ore di fila di questo Refn molto lento, che addirittura ha molti amici, anche appassionati di cinema, ma non hanno digerito. E quindi, ecco, The Neon Demon è effettivamente estremizza, mi vorrebbe da dire, già quel Refn che si era iniziato a manifestare con Drive, che estremizza forse ancora di più. E mi vorrebbe da partire, da iniziare citando due cose, che secondo me possono essere un po' una guida in questa sorta di labirinto estetico, che poi è The Neon Demon. Allora, da una parte mi viene da fare una citazione di Baudrillard, quando poi lui proprio parla di cinema, in un testo molto, tra l'altro anche un testo molto breve, che si intitola Cyberfilosofia. E lui dice ad un certo punto, chiaramente inserendosi in un binario lacaniano, opera una distinzione tra reale e la realtà. Il reale è una realtà non ancora razionalizzata. La realtà è chiaramente la percezione di quel mondo razionalizzato, un mondo organizzato, sistematizzato. E poi però dice un'altra cosa, parla del modello. Il modello appartiene proprio alla società dell'immagine. E dice che il reale, cioè la percezione del mondo non ancora organizzato, non supererà più il modello, appunto la realtà iper-reale, iper-estetica che appunto ritroviamo in The Neon Demon. E questo che significa? Significa che noi ormai viviamo una realtà dove il modello, il modello viene anche da modellare, e questi sono corpi, questi dei film, queste ragazze dei film, sono corpi che sono più volte manipolati, sia da un punto di vista estetico, quanto da un punto di vista proprio di violenza che si fa su questi corpi. Ecco, lui dice che ormai in questa realtà che è iper-reale, quindi l'iper-realtà del modello, ormai la percezione del mondo da un punto di vista naturale è qualcosa che non riesce più ad avvicinarsi. Noi ormai viviamo un mondo completamente estetizzato. E poi mi viene da fare un'altra citazione che secondo me è centrale in questo film, è una citazione da Proclo, quando ragiona proprio della luce e dello spazio. Lui dice che lo spazio non è altro che una luce più sottile. Ecco, questo film secondo me può essere definito come la discesa agli inferi della luce, perché una delle prime cose che le vengono dette a questa ragazza che viene dalla Georgia, a Elle Fanning, bellissima Elle Fanning questo film, le dicono, tu hai una certa luce, le dicono proprio, una delle prime cose che le dite, tu hai una certa luce. E allora ecco, non è tanto questione di bellezza, essere più o meno bella, essere questo discorso che appunto facevi tu. Ma è la questione di questa ragazza che incarna una luce che ancora non è diventata modello, non è ancora diventata iper realtà. E poi ad un certo punto, un passaggio un po' successivo, le dicono io, perché le potremmo chiamare le modelle anziane, diciamo così, perché questo film è molto spietato. Addirittura c'è un passaggio dove dicono già a ventunanni non vanno più bene, quindi è proprio spietato da questo punto di vista. C'è sempre una di queste modelle più anziane che diventano veramente delle vere e proprie vampire, le dicono proprio io ormai sono un fantasma, tu sei il sole. E quindi vediamo che tutto quanto il film, a mio avviso, questo è un po' il cuore, il fil rouge per orientarsi un po' in questo film. E cercare di capire che è un film che impone dei regimi di luce, dei regimi di visibilità, dove si passa da una luce naturale, che è la luce di questa ragazza, anche per come viene proposta fino ad un certo punto nel film, ad una luce elettrica, alla luce del modello, a questa luce che si fa modellare dalla violenza di questi predatori, perché è un film dove ricorrono costantemente immagini di predatori, felini e umani, diciamo così, perché un'altra frase che mi ha colpito molto rivedendo il film è proprio che sempre queste modelle anziane, diciamo, definiamole così, le chiedono proprio ad un certo punto, ma tu sei una preda, sei cibo, cioè tu sei cibo sei preda, le chiedono proprio. E quindi ecco, c'è un incontro tra queste due componenti, da una parte la questione della luce, ed è una discesa agli inferi di questa luce elettrica, di questa luce modello, di questa luce che manipola la psiche e il corpo delle persone, e dall'altra c'è la questione di questi predatori. Lei ritrova ad un certo punto un puma, mi sembra che sia, nella sua stanza del motel, che è proprio simbolo di questa violenza sul corpo. Poi però che succede? E succede che c'è un'altra attrice, che secondo me è molto brava, Gina Malone, se non sbaglio si chiama, adesso mi sono rivisti i nomi, che fa la truccatrice. E credo che questo ruolo sia fondamentale, perché noi nel film la vediamo che trucca le modelle, ma trucca anche i cadaveri. E allora sempre per restare nella questione della grecità, perché ad un certo punto a me poi piace giocare su queste associazioni, appunto la modella, diciamo così, esperta, che le dice io sono un fantasma. Fantasma, Heidegger ricostruisce una bellissima etimologia dal greco, che la prende da Phainon, che ciò che si mostra è da Phos, luce, cioè luce che appare. Il fantasma sarebbe luce che appare. Allora la truccatrice, abbiamo detto, trucca sia i corpi, i cadaveri, quanto le modelle. Allora la truccatrice è come se facesse un po', avesse un ruolo un po' da mediatore, in greco metaxu, un mediatore tra il regno dei vivi e il regno dei morti. Sembra un po' accompagnare queste ragazze, questi corpi che poi di fondo, parliamoci chiaro, in questo film per come ci vengono proposte. Fin dalla prima immagine, dove abbiamo lei su quel divano, con quell'effetto di sangue, proprio la prima immagine di apertura del film, sembrano dei corpi plastici, non sembrano dei corpi viventi. Ecco, questi corpi plastici sono dei corpi vuoti e sono dei corpi del consumo. Abbiamo detto a 21 anni già sono vecchie, già non vanno più bene. È questa società dello spettacolo che ha bisogno di rinnovare costantemente il corpo, di ridurre il corpo ad oggetto del consumo. E questi corpi che sono corpi vuoti perché non hanno nulla e che hanno bisogno di dover assorbire altra vita, altri corpi, altra luce soprattutto. Ecco, hanno bisogno di assorbire altra luce. Ecco, poi nel film secondo me succede una cosa, e poi se mai mi fermo questo prima parte dell'intervento, se vuoi dire tu poi qualcosa, poi magari dico io qualche altra cosa. Però ci tengo a dire questo, ad un certo punto succede una cosa, cioè si vede che lei cambia radicalmente, cioè c'è fino ad un certo punto che lei mantiene questa luce, questa luce particolare, e secondo me coincide anche un po' con il rapporto che ha con il ragazzo che poi l'accompagna, diciamo così, il suo fidanzato, potremmo dire. Ad un certo punto lei cambia, ma cambia proprio di trucco, cambia proprio di espressione, diventa proprio un'altra persona. Ecco, inizia a essere rapita da quella luce demonica, da quel neon demon di questa società elettrificata. Ecco, se vuoi dire qualcosa, io mi fermo per adesso qui, poi se mai riprendo. Sì, lei a un certo punto, la protagonista cambia, cambia perché si fa contagiare sostanzialmente, comincia il contagio di quell'ambiente, di quel mondo assolutamente privo di etica e quindi non può che farsi contagiare anche lei. Lei all'inizio appunto appare come la ragazza che viene dalla, insomma non dalla grande città, lei è una ragazza semplice che arriva dalla provincia, quindi non è ancora assuefatta a un certo tipo di discorso tossico, diciamo. Però che cosa succede? Chiaramente entrando in questo mondo anche lei ne viene pian piano infettata, perché si tratta evidente di una malattia, la malattia della realtà, dell'esistenza di oggi in sostanza, quella per la quale tutto deve essere immagine, tutto deve essere estetica. Pian piano quindi inizia a prendere consapevolezza probabilmente del fatto che lei effettivamente è bella e forse più potente delle altre perché lei è il nuovo, il nuovo che avanza, il nuovo che entra e quindi è la rivale ovviamente da battere. E quando si fa, inizia insomma a farsi appunto infettare barra contagiare da questa realtà che tutto fagocita nell'immagine, è allora che le altre davvero, come dire, fanno scattare la violenza. E quindi tutto quello che tu hai detto prima, il fatto che c'è la pantera, il fatto che loro la chiamano preda e parlano di volerla, cioè insomma preda che si fa mangiare, ha tutto poi uno sviluppo molto logico nel finale davvero allucinante. e quindi lei che prima era assolutamente innocente al suo arrivo, però a un certo punto perde un po' la sua identità di diversità. Trova, cioè insomma inizia a diventare comunque in parte simile a loro, quindi probabilmente non è neanche così diversa, ecco, da un certo punto di vista. Ed è allora che scatta proprio la ferocia delle sue rivali, perché capiscono che, caspita, se diventa come loro, diventa ancora più potente, forse ancora più feroce, più terribile di loro potenzialmente. Probabilmente questa è una delle possibili chiavi di lettura, diciamo, di ciò che accade nel finale. Quindi insomma sì, rivalità, ma probabilmente anche una non totale diversità di fondo. Comunque sì, tutto quello che tu dicevi sulla luce, sull'estetica, sull'immagine, assolutamente, cioè quello che ci vuole far capire Refn attraverso questa violenza delle immagini, davvero c'è un utilizzo del colore in questo film che è qualcosa di pazzesco. E l'immagine all'obitorio, insomma, che sicuramente chi ha visto il film se la ricorda molto bene, è proprio molto emblematica. Tu prima hai citato, io la chiamo Iena Malone, ma immagino si pronuncia Gina, insomma. Io l'avevo vista in altri film, e effettivamente lei in questa interpretazione è davvero, insomma, uno dei personaggi più interessanti. E quella particolare immagine dell'obitorio, che è particolarmente malata e violenta, esprime, insomma, il concetto di base del film, che è quello di un'immagine che deve essere portata fino alla fine, è quello di un amore anche perverso per l'immagine, ed è quello che di nuovo ci riporta un po' al discorso del rapporto con il corpo, che abbiamo toccato numerose volte anche nei film di cui abbiamo parlato in precedenza. Questo corpo che diventa qualcosa da adorare anche oltre la morte, questo corpo che successivamente, un po' per un ritorno alle origini e al primitivo, insomma, il corpo del nemico deve diventare il mio corpo, in qualche modo me ne devo appropriare. E qui, in questo film, si vedono vari modi di appropriarsi dei corpi. Quindi, da una parte, appunto, come dicevi tu, c'è la violenza delle modelle che accettano di farsi anche manipolare, appunto, dagli agenti, dagli stilisti, dai fotografi. Quindi, dall'altra parte, c'è il corpo che viene assimilato, d'altra parte c'è il corpo che viene amato anche morbosamente. Quindi, di nuovo, torniamo prepotentemente a parlare di corpi. Ecco, basta, ti ridò di nuovo la parola. No, 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 ma va benissimo. Infatti, no, ma di fondo questi poi sono i punti. Vorrei aggiungere due cose. Anzi, una, secondo me, in questo film ci sono due bellissime citazioni. Credo, e poi magari a volte le citazioni sono anche così non volute. Però, poi ecco perché, secondo me, e tra l'altro questo devo dire anche a quel mio carissimo amico con cui scrivemo quel libro sul cinema, e il cinema è sempre i Uber fluss, nel senso che ci rimanda sempre ad altre immagini. Una è sicuramente Muloland Drive, dove questa ragazza dalla provincia che arriva a Los Angeles, ma di fondo è già diabolica come Los Angeles, lo si capisce alla fine, anche qui lo si capisce alla fine, come dice appunto tu. Cioè, lei, sì, arriva con questa luce diversa, arriva con questa purezza, arriva con questa tu sei il sole, io sono un fantasma, però di fondo è ben pronta a diventare come l'oro, è ben pronta a dare un calcio alla vita del passato e a gettarsi pienamente in questa reificazione, diciamo così, della propria luce. E poi c'è un'altra bella citazione che, secondo me, viene proprio da Gina Malone, che onestamente non so come si chiama, io poi non è che sono molto bravo con l'inglese, e quando lei ha come se avesse una sorta di orgasmo con la luna, mi ricorda molto Lars von Trier di Melancolia. Questa, secondo me, è un'altra bella citazione. Ecco, le due cose che volevo dire sono queste, da una parte sulla città, Los Angeles. Los Angeles è protagonista già in Drive, è protagonista in To All Do Die Young, questa serie su Prime Video. è lo spazio di Refn. Secondo me Los Angeles è la città perfetta per fare questo tipo di discorso, perché è una città piatta, scarna. Non è una città come New York, è una città verticale, è una città condensata, è una città dove, soprattutto penso a New York, ovviamente non si dovrebbe ragionare così, però si pensa a Manhattan, questo condensato, diciamo così. Los Angeles è piatta, è larga, è immensa, ci sono queste vie lunghe, questo contatto poi col deserto, c'è sempre questo deserto che avanza verso Los Angeles, ecco, questa concezione del deserto che avanza, che poi è deserto relazionale, è deserto affettivo, è deserto, insomma, di solitudine, questo silenzio anche che c'è a volte in questo film, poi con contrapunto della musica di Cliff Martinez, che è un altro grande, riesce veramente a dare atmosfera a questo film, già aveva fatto benissimo, secondo me, con Drive, lavora alla grande con Ralph, Cliff Martinez. E quindi, ecco, questa concezione della città, di una città come Los Angeles, una città dove sono violati tutti quanti anche gli spazi privati, perché secondo me, questa è un'altra chiave del film, può essere quella proprio della violazione, come dicevi anche tu, no? Appropriazione e violazione dei corpi, ma appropriazione anche dello spazio privato, sta ragazza si vede più volte in quella stanza di questo hotel, o motel, non so cosa sia, entrano animali feroci, ma entrano anche uomini, entra di tutto in questa stanza. Lei non ha uno spazio più di protezione, è completamente esposta, è completamente esposta, diciamo così. E quindi, ecco, queste secondo me sono un po' le chiavi per orientarsi, diciamo così, in questo labirinto di reference. Da una parte è la questione della luce, la questione del corpo, e sul corpo ci siamo ritornati più volte, quindi penso che sia chiaro, anche in questo film la tematica del corpo è centrale. Ma io credo in tutto quanto il film, il cinema, mi piace definire il cinema critico, il cinema un po' intelligente, pone la questione del corpo, perché chiaramente è l'oggetto preferito, diciamo così, per un cinema che vuole riflettere anche sul contemporaneo. Come può riflettere il cinema sul corpo, perché ce lo mostra. In letteratura ci dobbiamo sempre noi figurare un corpo, e ognuno se lo può figurare in un modo diverso, per quanto possano essere dettagliate le descrizioni dei corpi in letteratura, siamo sempre noi che ci costruiamo un po' su quella descrizione, invece il cinema ce lo mostra, e ce lo mostra con violenza. E quello che secondo me tocca di questo film è proprio la violenza di questi corpi vuoti, perché questa è un'altra chiave del film, il vuoto, questo vuoto che deve essere costantemente riempito dal successo, dall'immagine, dalla pubblicità, dalla passarella, dall'appropriazione violenta verso l'altro. Ecco, io credo che queste siano un po' le chiavi del film. Io mi fermerei pure qui, se tu vuoi dire ancora qualcosa. Ecco, sì, mi è venuto in mente, mentre parlavi, siccome appunto Refn è un regista che amo molto, tu parlavi di solitudine. Ecco, un tratto distintivo sicuramente anche di altri film dello stesso regista è davvero la solitudine. In questo film in particolare si nota la mancanza totale della famiglia, come del resto si notava anche nel protagonista di Drive, si notava tantissimo vabbè, la solitudine chiaramente in Valhalla Rising neanche da dire. Poi, in un altro film secondo me abbastanza tralasciato sempre di Refn, Solo Dio Perdona, invece abbiamo al contrario una famiglia, in questo caso il rapporto con una madre davvero a dir poco asfissiante, acchiacciante, un eccesso di, come dire, di intromissione da parte della famiglia. La solitudine, sì, trovo che sia sicuramente una delle chiavi di lettura di, in particolare invece del film di cui abbiamo parlato oggi e il vuoto anche, il vuoto davvero di ogni cosa perché è un film dove le relazioni sono sono talmente superficiali tutte improntate ovviamente solo all'apparenza che è davvero qualcosa di agghiacciante e però nel finale le rivali della nostra protagonista che all'inizio del film appunto si presenta come la vittima, la preda innocente pur appunto in mezzo a una tale superficialità di sentimenti e di relazioni diventano complici di qualcosa di davvero agghiacciante e terribile quindi questa è una cosa che è abbastanza spiazzante dal mio punto di vista. Sì, sì, tra l'altro sempre sul vuoto aggiungo solo questo è bella quella parte finale dove vanno in questa villa è una villa estremamente vuota anche questa è una villa con questi corridoi proprio estremamente silenziosi e vuota dove a un certo punto quando lei dice stiamo organizzando una festa è quasi paradossale dove è sta festa? Sono due di loro non si capisce come possa esserci una festa quindi ecco questo vuoto che ritorna ritorna anche secondo me nell'ambientazione finale dove in quel caso mi sembra in quella villa gli animali sempre feroci sono però imbalsamati addirittura quindi c'è anche quest'altro riferimento cioè quest'animale feroce che ritorna più volte nella stanza di Elf Henning alla fine vediamo questi animali sempre predatori però imbalsamati quindi secondo me è un film costruito benissimo io questo però è un giudizio personale a me piace essere un po' più strutturale in genere però lo voglio dare questo giudizio personale cioè chi dice che questo film è fatto male secondo me è fuori strada perché secondo me è costruito benissimo cioè lui ha pensato a tutto ci sono un sacco di riferimenti ritorna sulle stesse cose non si può dire che si è buttato un po' così assolutamente no ogni immagine ogni frame è un tassello di un puzzle che è stato è stato studiato in ogni minimo dettaglio non è assolutamente nulla è lasciato al caso in questo film anche la musica come dicevi tu cioè non c'è proprio nulla nulla di casuale sì 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 sono pienamente d'accordo su questo e va bene è venuta una bella chiacchierata anche questa ti ringrazio sempre grazie a te e un saluto a tutti ciao 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 ciao